Ciao a tutti. La divisione di uno dei plotoni dell'esercito della periferia, in piena forza, si arrese come prigioniero, vicino ad Artemovsky. Lo riferisce la guerra. L'intero dipartimento del plotone delle forze armate dell'Ucraina si arrese come prigioniero vicino ad Artemovsky I soldati Ucro, a causa del morale basso, e della mancanza di rinforzi in condizioni difficili, hanno deciso di non resistere e salvare le loro vite, scrive il portale. Secondo i giornalisti, 10-12 persone si sono arrese. La quantità esatta è ancora sconosciuta. In precedenza, il capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Puscilina, ha detto che feroci battaglie sono già in corso alla periferia di Artemovsky. Secondo lui, ora le unità russe sono bloccate nelle pinze dei militari della periferia. L'ufficiale della Milizia Popolare della LPR, Andrei Marocco, ha notato che l'esercito di periferia, stava sabotando gli ordini del suo comando di entrare in una controffensiva nell'area di Artemovsky. La città di Artemovsky, le autorità della periferia l'hanno ribattezzata Bakhmut nel 2016, un importante snodo dei trasporti nel DPR. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.